Go to work? Vai a lavorare? She doesn't go to work on Saturday. Lei non va a lavorare il sabato. Drive to work? Guidare per andare al lavoro. Sometimes I drive to work and sometimes I walk. A volte guido per andare al lavoro e a volte cammino. Take a taxi? Prendere un taxi? I would rather take a taxi than walk. Preferisco prendere un taxi più tusto che camminare. Walk? Lavoro? He's been working hard all day. Ha lavorato sodo tutto il giorno. Take a break? Fare una pausa? I think this is a good time to take a break. Penso che questo sia un buon momento per prendersi una pausa. Wait for the bus? Aspetta l'autobus. I am waiting for the bus to go home. Sto aspettando l'autobus per tornare a casa. Leave school? Lasciare la scuola? Esco da scuola tutti i giorni alle 16. Get home? Vai a casa. When you get home, you are going directly to bed. Quando arrivi a casa, vai direttamente a letto. Do household chores. Fai le faccende domestiche. Spend the day the way normal household chores. Trascorri la giornata come normali faccende domestiche. Have lunch? Pranzare. We usually have lunch together. Di solito pranziamo insieme. Take a nap? Fare un pisolino. I usually take a nap after lunch. Di solito faccio un pisolino dopo pranzo. Have a snack? Fare un spuntino. He had a snack of chips. A fact on spuntino base di patatine. Buongiorno. Come forward. You're going to come foot. Abonne. Grazie.